Radio Radicale, siamo con David Willey, che è stato per tanti anni corrispondente della BBC in Italia e presso la Santa Sede, che ha seguito, diciamo, quattro papi, credo, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI e adesso è anche Papa Bergoglio. Per parlare di uno dei grandi interrogativi di questi giorni, di quali saranno i rapporti di Papa Francesco con l'Argentina dopo la vittoria di Milley. Allora, c'è da dire che ha suscitato anche diversi interrogativi il rapporto tra questo pontefice e l'Argentina. Allora, io le volevo chiedere questo. Che rapporto ha avuto Papa Francesco dal momento in cui è stato eletto, credo nel 2013, se non ricordo male, ad oggi con il suo paese d'origine? Noi eravamo abituati a vedere, per esempio, Giovanni Paolo II, che aveva avuto uno strettissimo rapporto con la Polonia, paese che aveva visitato ben sei volte. Un contrasto completo con Papa Vojtiwa. Francesco non è mai tornato in Argentina dal momento che è venuto a Roma per il conclave e è stato eletto Papa dieci anni fa. Dunque, perché? È una buona domanda. Io credo che lui voleva fare un gesto dimostrativo del fatto che lui, una volta eletto Papa, non voleva fare lo sbaglio di essere troppo attaccato ai problemi politici del suo paese. Lui, credo, ha sofferto parecchio durante il periodo dove lui era arcivesco a Buenos Aires. Ha dovuto coesistere con un regime ostile e non era completamente contento di questa relazione. e preferiva, durante il suo pontificato, utilizzare il fatto che era il primo Papa dall'America Latina a dimostrare la sua personalità come pastore universale. Il fatto che lui abbia scelto viaggi ai posti più strani del mondo, in Mongolia, in Sudan, nei posti più remoti che si può pensare, questa è una dimostrazione del suo concetto della Chiesa come veramente una Chiesa universale e non una Chiesa ossessionata dalla politica locale. Ho capito. È stata anche una critica implicita a Giovanni Paolo II? Forse sì, forse lui avrebbe voluto dare un impatto personale al papato. Ma ogni Papa ha le sue idee differenti, insomma, è normale. Io personalmente ero un po' curioso di sapere perché non voleva mai tornare. Ha detto sempre sì, forse l'anno prossimo, forse l'anno prossimo, ma sempre trova una ragione di non andarci. Adesso può darsi che parla naturalmente che lui sia obbligato di tornare con un nuovo presidente. È difficile di rifiutare. Anche perché lo ha invitato Milei. Sì, pare che abbia parlato già con Milei. È un Papa pieno di sorprese. Che rapporto ha avuto però Papa Francesco con il peronismo? Allora, il peronismo è stato un timbro della politica argentina. È stato definito peronismo di sinistra. Alcuni lo vedono come in realtà un ideale di destra. Allora, io le volevo chiedere se il Papa Francesco però, al di là di questo, da lontano, si è interessato dei problemi dell'Argentina. In che misura lo ha fatto? E se in Argentina l'atteggiamento del Papa ha creato degli scontenti? No, credo che dal momento che è stato eletto Papa, lui ha deciso di non continuare ad interessarsi. Per esempio, se si fa il confronto con il Papa Vojtyla, Vojtyla ha appoggiato il movimento Solidarnosc da Roma all'inizio. Insomma, lui ha incoraggiato e anche era un po' fiero che lui sapeva che aveva fatto la sua contribuzione alla fine del comunismo nell'est dell'Europa. E i grandi cambiamenti, non soltanto in Polonia, ma anche in Russia. Anche Benedetto XVI era molto legato alla Germania, l'ho dimostrato. Certo, certo. Credo che Francesco prendi molto al serio l'idea di essere un Papa del mondo che non è stato guardato con molta attenzione. Perché i papi, vediamo, il papato è sempre stato controllato per secoli da italiani, no? E adesso europei. E anche con le sue riforme la Chiesa Cattolica viene governata soprattutto da uomini bianchi e da europei. Insomma, l'università della Chiesa romana è stata una cosa teorica più che vera nel senso del governo della Chiesa. Adesso, con il fatto che lui abbia fatto cardinali da paesi senza una maggioranza cattolica, anche come la Mongolia, per esempio, o la Birmania, dimostra che lui si interessa del concetto di Chiesa come una cosa veramente più universale che i suoi predecessori. Che rapporto potrebbe avere con Miley? Ho visto che in Argentina si è scatenata una corsa all'accaparramento perché tutti hanno paura delle privatizzazioni che farà. Allora, a giudicare dall'impostazione sociale della dottrina di Papa Francesco, io penso che forse qualche motivo di contrasto potrebbe esserci. Lei che pensa? È presto? Sì, è presto, ma per esempio, durante il periodo immediatamente precedente, la sua elezione, lui è stato arcivescovo e lui ha passato il suo tempo a cambiare totalmente le relazioni dell'arcivescovo, del suo predecessore come arcivescovo. Cioè, ha venduto la limousine del suo predecessore, ha venduto la casa principesca dove lui abitava. Lui abitava in due camere vicino alla cattedrale e poi andava in metropolitana a visitare i preti delle favele. Dunque, ha dimostrato di una maniera molto personale il suo concetto di chiesa a livello locale. E si potrebbe dire anche che adesso, essendo pastore della Chiesa Universale, lui ha trasferito questa maniera di pensare al mondo intero. Il suo pensiero è molto interessante. Lui parla sempre di essere delle periferie. Lui è interessato di un modello del mondo dove siamo tutti in periferia. Ho capito. Va bene, grazie a David Willey.